Non ho parole, non ho parole, ci ho provato a spiegarmi in conferenza stampa che non ho parole. Mi assumo tutte le responsabilità per qualsiasi decisione che ho preso durante la gara, anche prima della gara, ma i nostri calciatori hanno dato tutto, hanno fatto anche un bel calcio, una bella prestazione, hanno creato, sono stati organizzati, hanno diviso la pressione che c'era intorno a loro, si sono divisi come veri compagni. È cominciato in modo più bello questo pomeriggio, stadio pieno, una energia che nessun in nessuna regia avrei pensato che poteva finire in questo modo. No, è un duro colpo. Dicevo ai giornalisti che io non sono uno che cambia l'opinione da oggi a domani e adesso quando diventa duro e ti crolla il mondo addosso scappi o molli. Se la società non l'ha persa diversamente io starò fino alla fine con i nostri ragazzi a essere più dignitoso possibile perché il nostro dovere è obbligo a fare di tutto per questi colori. Grazie. 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 Grazie.